A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe Davidis. In queste giornate particolari la nuova settimana almeno dal punto di vista meteo parte bene perché abbiamo invocato il maltempo perché servono le piogge non peraltro e le temperature un po' più basse perché siamo in inverno e serve anche il freddo in inverno però in questo caso il bel tempo forse ci aiuta un po' almeno dal punto di vista psicologico. Guardate bel tempo solo verso Liguria avremo qualche nuvola in più anzi addirittura avremo cielo molto nuvoloso coperto qualche goccia qua e là ci potrà essere però sul resto del territorio tempo tranquillo e le temperature in questo avvio di settimana saranno ancora miti in questo lunedì però la settimana proseguirà in maniera molto più dinamica rispetto alle scorse settimane con alternanza tra fasi più fredde fasi più miti e a tratti anche qualche pioggia insomma maggior dinamicità delle ondulazioni a tratti fredde a tratti un po' più miti ma ne riparliamo intanto prendiamoci quest'altra giornata all'insegna del bel tempo a parte la Liguria delle temperature miti guardate infatti le massime comprese tra i 13 e i 15 gradi vedete questa volta proprio sulla Liguria valori più bassi temperature che invece nelle zone interne in pianura saranno anche attorno ai 15 e 19 gradi per il momento è tutto buon proseguimento buon inizio di settimana